Dobbiamo liberare metà della razza umana, le donne, così che esse possano aiutare a liberarsi l'altra metà. Attivista e politica britannica che guidò il movimento suffragista femminile del Regno Unito nei primi anni del Novecento, affinché si estendesse il diritto di voto anche alle donne. Nata in una famiglia altoborghese, quando era bambina una sera i genitori le si avvicinarono per darle la buonanotte e il padre, convinto che stesse dormendo, disse «Se solo fossi un maschio». Quelle parole la tormentarono per anni e la bambina, diventata donna, capì ben presto il significato di quella frase nella società di allora. In Inghilterra le donne non contavano nulla. Frequenta le scuole fino al 1877, l'anno successivo conosce il suo futuro sposo. I due coniugi si impegnarono fin da subito in favore dell'uguaglianza politica delle donne. Promotrice di vari gruppi, primo fra tutti la Lega per il diritto di voto alle donne, diede un grosso contributo all'ottenimento nel 1894 del diritto al voto per le donne nelle elezioni locali. Nel 1903 fondò il Women's Social and Political Union, che si prefiggeva come principale obiettivo l'estensione del suffragio alle donne. Il movimento si collocava all'esterno di qualsiasi formazione partitica e fu spesso messo in cattiva luce e screditato a causa delle azioni di violenza delle suffragette, irruzioni nelle sedi istituzionali, incendi di chiese o edifici abbandonati e sabotaggi alle linee telefoniche. Nel maggio del 1914 venne arrestata davanti a Buckingham Palace, mentre tentava di portare una petizione al re Giorgio V. Dovrà aspettare fino al 1918, quando finalmente viene sancito il suffragio femminile, anche per la Camera dei Comuni. Sempre durante gli anni della Grande Guerra, intraprese diversi viaggi in vari paesi stranieri, tra cui Canada, Russia e Stati Uniti, promuovendo un'importante campagna di sensibilizzazione sul problema del suffragio universale. Tornò nel Regno Unito nel 1926 per candidarsi alle elezioni parlamentari per il Partito Conservatore. Purtroppo si ammalogare gravemente e morì prima di poter essere eletta.